ciao bambini oggi sono qui con voi perché con voi vorrei fare un po di ginnassica come facevamo durante le lezioni noi sappiamo che i muscoli devono rimanere forti che le ossa come un'impalcatura lo scheletro deve sostenerci e allora cominciamo con i nostri esercizi potete assolutamente rifarli da soli a casa non è difficile sapete tutto allora musica e cominciamo il primo esercizio è il filo che tira ripetiamo tutto ogni volta quattro volte giù su butto via l'aria quando chiudo prendo l'aria quando apro e cambio esercizio l'allugamento come il vermicello che cammina sulle gambe fino alle punte dei piedi scendo scendo e diventa una parfalla e ricomincio giù 1 2 3 4 parfalla parfalla di nuovo giù 1 2 3 4 parfalla giù 2 3 4 parfalla giù e diventa un ponte su passaggio a livello sul ponte qua sul ponte qua su su cambio posizione quattro poggi quattro gambe il gatto il cane con la coda il gatto il cane con la coda il gatto il cane con la coda il gatto e la fogliolina mi riposo e tiro la mia coda lunga fogliolina 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 mi appoggio mi rendo come una montagna cammino e adesso tiro il filo un po' più piccola un po' più grande un po' più piccola un po' più grande ciao bambini alla prossima volta